E allora Sindaco Gerulli ci siamo, ha finalmente ufficializzata la candidatura di Priscilla Schiano a Sindaco di Monte Argentario. Sì, era una cosa ormai già stata più o meno anticipata, sarà lei che comanda la nostra squadra. La gente è ancora abituata a vedere me come l'ideatore di questo gruppo civico, ma oggi il testimone passa ufficialmente in mano a lei e noi siamo all'interno del gruppo nostro. Noi non abbiamo un partito di riferimento preciso, siamo un gruppo di persone, forse siamo anche tanti e tutti quanti crediamo che Priscilla possa fare come me e magari anche meglio. Intanto gli avversari affilano le armi. È normale che ci siano gli avversari, siamo in democrazia quindi c'è sempre una parte e una controparte. Sembra che loro siano in due gli avversari, questo per noi è anche un vantaggio. Del resto sono posizioni... è facile essere contro qualche d'uno, poi bisogna essere... per avere veramente un progetto vincente bisogna avere delle idee chiare. Io di avversari ne ho tanti, ma forse è difficile metterli tutti insieme perché ognuno è avversario per motivi particolari, insomma. No, quindi è difficile da questo fare un'unione vera. La possono fare, ma poi con il rischio che dopo pochi mesi va tutta a gamba all'aria. Comunque noi in ogni caso penso che saremo pronti anche ad uno scontro uno contro uno. Noi siamo fiduciosi che quello che abbiamo fatto è tanto, ma chiaramente non chiediamo il voto su quello che abbiamo fatto, perché mai su quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto. Chiederemo il voto su quello che andremo a fare. Certo avremo la forza di essere credibili grazie a quello che abbiamo fatto e soprattutto eviteremo delle, direi, stupide promesse. Insomma, oggi le situazioni sono molto diverse da quelle che erano anni fa. Non si può promettere il posto di lavoro in comune perché il comune non assume più nessuno. Non si può promettere la casa popolare a tutti perché le condizioni sono quelle che sono. Quindi c'è da fare delle promesse elettorali, sì, ma devono avere delle basi solide perché altrimenti fanno ridere, insomma, c'è sempre qualche credulone che pensa che se vince Tizio o vince Gaio lui diventa presidente di non so bene cosa. Ma questo poi, ripeto, non sarà il nostro tipo di propaganda. Come nasce la candidatura di Priscilla Schiano? Nasce da ormai un rapporto che dura da quasi 15 anni perché mi ricordo quando un comune amico, Gianni, mi presentò questa allora ragazzetta che chiaramente non sapeva niente di politica, però mi dà tessuto l'impressione di una che voleva arrivare, che aveva grosse capacità ma soprattutto grosse aspirazioni. Quindi sfruttando questa cosa poi è cresciuta, è diventata consigliere, poi assessore, poi vice sindaco. E in questi anni ha maturato una grossa esperienza. E' vero che forse si è vista molto meno di me, però anche gli assessorati che aveva, il bilancio, il sociale, non sono assessorati che ti mettono in mostra o che ti rendono visibile. L'assessore a lavori pubblici piuttosto che l'assessore all'urbanistica, quella alla nautica, hanno più spazi per la visibilità. Però il lavoro che c'è dietro è importante e questo Priscilla l'ha svolto ampiamente, l'ha svolto bene. Bene, non possiamo non ricordarci per esempio che al di là di tutti i lavori che abbiamo fatto, oggi il Comune economicamente è molto più solido di come era dieci anni fa. Per esempio in questi dieci anni non abbiamo preso nessun mutuo, in compensa abbiamo pagato tutte le rate che ci sono arrivate, quindi abbiamo fortemente diminuito il debito pubblico e questo non è poca roba. Poi qualcuno si domanda come abbiamo fatto allora a fare tutti questi lavori, perché per fare i lavori ci sono i soldi, soprattutto confrontando con i periodi precedenti. Questo francamente io la risposta non ce l'ho, nessuno si è rubato i soldi prima, forse i soldi sono stati sprecati, sono stati mal utilizzati, sono stati investiti in cose che non hanno poi riscontro. Noi ci siamo dedicati fortemente ai lavori pubblici perché abbiamo ritenuto che l'immagine del paese è soprattutto la bellezza, l'esteriorità. Ora Priscilla nei prossimi anni, a parte continuare questa cosa, però chiaramente dovrà anche sviluppare un po' la seconda fase, quella magari dei rapporti anche all'esterno, cose che magari io posso essere stato meno bravo. Ognuno di noi ha delle caratteristiche dove eccelle più o meno, quindi io sono sicuro che Priscilla sarà capace di continuare e di innovare. Anche se qualcuno dice sì, carina, simpatica, bella presenza, però dopo dieci anni da car armato del sindaco Cerulli, sarà difficile stare dietro a tutto quello che ha fatto lui? Ma lei non deve stare né dietro né davanti, deve stare di fianco. Il sindaco sarà lei e le direttive le detterà sicuramente lei. Io penso di esserci, penso di prendere abbastanza voti per essere confermato consigliere comunale, penso che il Priscilla mi metterà in lista, queste sono cose che poi si vedranno ufficialmente più in là. Io penso di poter ancora essere in grado di dare un contributo, però ecco, togliamo l'olio da fiaschi, io non farò il sindaco, il sindaco sarà Priscilla. Siamo usciti allo scoperto, quindi la mia candidatura oramai è ufficiale. Partiremo per questa nuova esperienza che poi per me è un'esperienza iniziata dieci anni fa con il sindaco attuale Arturo Cerulli. Per me è stato un grande maestro perché mi ha introdotto nell'ambito politico e amministrativo. Sono stati per me dieci anni molto intensi, molto importanti. Sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto con questa amministrazione e sono convinta che potremo fare ancora di più e anche meglio. Non ci fermeremo, il nostro progetto è iniziato dieci anni fa, di rivalutazione del territorio, di rivalutazione dei lavori pubblici. Io ho intenzione nel prossimo mandato di rivalutare il centro storico, lo abbiamo già iniziato, quindi continueremo questa fase di recupero di alcune vie e di alcune parti del paese. Non solo questo. Ovviamente nell'amministrazione precedente abbiamo dato sicuramente molto più rilievo ai lavori pubblici, che ci saranno anche nei prossimi anni, però daremo un'importanza e un rilievo diverso al turismo, al commercio, all'allungamento della stagione, ai giovani, importantissimi giovani sono per il nostro territorio, sono il futuro. Sono il futuro. Quindi dico a loro di non rinunciare ad inserirsi nella politica. Fatevi sentire, venite alle riunioni, parliamone. Le esigenze loro sono per noi le esigenze principali. Ecco Priscilla, questa candidatura è più una soddisfazione o una preoccupazione? È una soddisfazione, perché dopo dieci anni sentirmi dire che sono candidata a sindaco mi ha emozionata. Preoccupata? Preoccupata? Beh, uno deve essere sempre preoccupato, nel senso la preoccupazione e la paura ti danno quello stimolo a fare, a non sottovalutare e a trovare la forza di andare avanti. Per me è un impegno, un impegno molto importante, che prendo sul serio, come ho preso sul serio i miei dieci anni di assessorato e vice sindaco. E oggi è arrivato il momento di prendere sul serio questa mia candidatura. Ci tengo a fare il sindaco dell'Argentario. Ci tengo perché amo il mio territorio, amo il mio paese. E per me sarebbe un orgoglio e una soddisfazione incredibile. Parlando con le persone in giro per Porto Santo Stefano, qualcuno si chiede, ma il nuovo sindaco farà mai diventare il lungomare dei navigatori la via dello shopping? Questa potrebbe essere un'idea, un'idea che noi abbiamo sempre in qualche modo considerato, perché all'origine chi l'ha impostato in questo modo non è stato lungimirante e non è stato abbastanza furbo, perché ovviamente creare una passeggiata come il lungomare e lasciare il corso in quel modo avrebbe automaticamente dichiarato la morte del corso, perché se uno viene all'Argentario ovviamente si vuole fare la passeggiata vista mare. Cosa farci nel corso? Questo è un progetto che noi stiamo valutando e che abbiamo dato anche da valutare a persone che forse di commercio ci capiscono, sicuramente meglio di noi. Per cui ascoltare le idee o chiedere progetti o chiedere illuminazioni a chi ne sa più di noi non è un peccato, anzi è un grande segno di umiltà, dove non posso arrivare io, chiediamo chi può stravolgere o chi può aiutarci a far sì che magari il corso possa riprendere vita, oppure qualora non possa riprendere vita, crearci qualcosa che possa dare la possibilità a coloro che ci sono ancora di vedere un po' di passeggio. Mi immagino che in questo periodo stai costruendo la squadra di governo, ci sarà anche l'ex sindaco Cerulli? Sì, Arturo è uno dei primi confermati in lista perché è importante che Arturo darà una grossa mano alla mia lista, ci tengo, ha fatto un buon lavoro, cosa succederà in futuro è troppo presto per dirlo, perché io ribadisco il fatto che se io ci metto la faccia, io sono il sindaco, io governo, poi che Arturo rimane, rimarrà sempre il mio maestro, quello che mi ha insegnato, questo è fuori dubbio, che io condiviso tutto quello che abbiamo fatto è fuori dubbio, però il sindaco sarò io, Arturo sarà in lista, aiuterà la lista, aiuterà la squadra a vincere, ci saranno altre conferme oltre Arturo, ma ci saranno anche delle new entry, new entry che noi stiamo anche valutando nei giovani, come dicevo prima, i giovani hanno delle esigenze nuove, sono una grossa risorsa per il territorio ed è importante che anche loro partecipino alla vita amministrativa, politica del proprio territorio. Alessandro Roncorini ci sarà in questa squadra? Io come dico sempre a tutti in questo momento, io ho dato la mia piena disponibilità per essere candidato alle prossime elezioni in qualità di consigliere comunale, ovviamente poi starà al candidato sindaco che chiude comunque la lista, inserirmi nella squadra o meno, ma al di là di questo io sarò comunque della partita, qualsiasi sia il ruolo assegnatemi. Ecco allora, vediamo il tuo incarico preciso di delegato al Palio per il Porto Santo Stefano e Porto Ercole, cosa bolle in pentola nell'ente Palio e nei rioni? Abbiamo fatto la riunione diciamo dell'ente Palio con i rioni a Porto Santo Stefano, l'avevamo fatta una precedentemente a Porto Ercole, di chiusura anno si può dire. Ma diciamo che anche qui le cose vanno, i rioni si stanno preparando agli avvenimenti extra palio natalizi, poi ci sarà il carnevale, poi ci sarà ovviamente la festa di primavera e tanto altro. A Porto Ercole c'è fibrillazione per questo discorso dei nuovi guzzi perché l'amministrazione comunale da gennaio 2018 metterà all'opera la costruzione di nuovi quattro guzzi in legno come voluto dai rioni di Porto Ercole che saranno destinati solo e esclusivamente al Palio di Porto Ercole. Gli attuali, che sono i guzzi storici datati 1976, rimarranno in dote al Palio dell'Argentario, quindi a Porto Santo Stefano e avranno anch'essi una grossa ristrutturazione, un total refitting che verrà fatto da uno dei cantieri più prestigiosi, possiamo dire, al mondo. Ora gli uffici stanno sistemando le carte, fatte i dovuti spostamenti equilibri di bilancio, all'inizio anno si partirà con questa ristrutturazione. Quindi grosse novità, compreso il fatto che entro fine anno dovremmo chiudere il lavoro fatto dalla Commissione per quanto riguarda il nuovo statuto del Palio, quello poi verrà pubblicato sull'arbo operatorio del Comune, ci saranno le osservazioni come si fa a un normale piano regolatore o piano urbanistico in genere e poi andremo a chiudere il documento. Certo è che comunque nel 2018 il Palio verrà fatto con lo statuto attuale, poi vedremo. Ecco, una domanda di carattere, diciamo così, quasi tecnico. Il Palio del 2018, i due Pali, sia quello di Porto Ercole che di Porto Argentari, è un po' a cavallo fra le votazioni e l'insediamento della nuova Giunta. che succede? Qualora le cose comunque vadano, l'ente Palio, Alessandro Roncolini, rimanete tutti in carica fino alla fine del Palio? No, diciamo, il mio mandato come delegato del Palio finisce al momento delle votazioni, quindi al momento che c'è le elezioni e viene eletto un nuovo Consiglio Comunale e un nuovo Sindaco, poi vedremo chi vincerà. Comunque il mio mandato finisce lì. L'ente Palio è un ente comunque autonomo, controllato dal Comune, ma autonomo e autonomamente va avanti, va avanti sulle decisioni prese, lo sai benissimo, insomma, e si sa benissimo che non è che le decisioni vengono prese il 14 d'agosto più il 15 d'agosto, si programma inizio anno, la programmazione ovviamente ordinaria andrà avanti e poi il nuovo Sindaco nominerà un nuovo delegato al Palio. Io lo so che qui te mi vuoi fa la domanda, però io dico che praticamente il mio impegno, a prescindere da quello che sarà il ruolo futuro in amministrazione, io il Palio, lo dico da sempre, per me il Palio è una costola del mio corpo, quindi mai e poi mai abbandonano il Palio, qualsiasi sia il mio ruolo futuro in amministrazione. Una folla di gente, questa è una soddisfazione immensa, con una giornata molto fredda, tantissime persone sono venute per sostenermi, per ascoltarmi e per darmi il loro appoggio, veramente li ho ringraziati uno a uno, ci è voluto tempo, ma li ho ringraziati uno a uno perché meritavano davvero, una grande soddisfazione mi hanno dato. Ogni loro complimento era per me una conferma, un modo di orgoglio, una situazione veramente molto molto emozionante perché molti mi hanno detto che li ho emozionati, io devo dire che tutti loro hanno emozionato me.